Adesso è il momento dello sport, è il momento di conoscere più da vicino il nuovo allenatore, il nuovo trattino vecchio direttore sportivo del Pescara Alberto Colombo e la nuova scelta tecnica per la panchina del Pescara, il ritorno invece è quello di Delicarri sulla guida della direzione sportiva della società insomma tutte queste novità sono state illustrate, una conferenza stampa che da poco terminata ha l'hotel EC con tutto il quartiere generale Biancazzurro e anche la stampa che si è ritrovata per questo avvio di una nuova avventura in collegamento il nostro Enrico Giancarle allora Enrico a te la linea, buon pomeriggio Buon pomeriggio Carmine, ben trovati a tutti in diretta dalle KK Hotel, diciamo così iniziato ufficialmente la nuova stagione del Pescara con la presentazione del neotecnico Alberto Colombo che vedete alle mie spalle e del direttore sportivo Daniele Delicarri presenti in conferenza stampa anche il presidente Daniele Sebastiani nessuna novità sull'aspetto societario, parola soprattutto al tecnico Colombo e al direttore sportivo Daniele Delicarri Sebastiani sul portiere Iacobucci però tenuto a precisare al momento di chiudere la stagione io avevo dato il libera tutti ma ci andiamo ad ascoltare le parole del neotecnico Alberto Colombo e del direttore sportivo Daniele Delicarri con le immagini Diego Martelli Colombo ben arrivato a Pescara in bocca al lupo per questa nuova avventura mi è piaciuta molto una cosa che le ha detto in conferenza stampa volevo anche una sfida per avere stimoli più importanti con una piazza che ha delle esigenze diverse sì, io credo che siccome tutti abbiamo l'ambizione di arrivare ad alti livelli nel percorso poi ci si riesce o non ci riesce ma credo che sia giunto il momento o spero di potermi misurare con una piazza che dia delle diversità di problematiche ecco dove sta la ricerca di quella che posso dire l'uscita da una zona di comfort che mi ero creato magari l'anno scorso e misurarmi con delle nuove problematiche delle nuove pressioni con un'esigenza di un pubblico che è competente ed esigente diverso come quello di Pescara è un fattore probabilmente di crescita a livello professionale Lei ha detto non è giusto parlare di giocatori del Monopoli per rispetto della vecchia società e ha detto però esplicitamente con il presidente e con Delicarri abbiamo valutato di partire dalla linea quattro e tre centrocampisti e poi attaccanti che sappiano fare un po' tutto Le chiedo come mai questa scelta visto che con il Monopoli ha spaventato Cesena eliminandola e ha anche spaventato Catanzaro con la linea a tre dietro? No ma allora io nel percorso che ho avuto professionale sono passato da essere integralista ad inizio della mia carriera forse perché avevo bisogno di certezze visto magari la mancanza di esperienza a pensare che il sistema di gioco sia secondario ma cercando di mettere quelli che sono i giocatori che possono essere determinanti in una squadra a loro agio quindi qui siccome magari ci sono degli obiettivi e c'è anche una cultura diversa credo che sia doveroso riflettere e pensare appunto a qualcosa che non è stato quello come l'anno scorso perché ogni piazza ha delle esigenze diverse quindi da allenatore cerco di adeguarmi, credo in modo intelligente e di capire qual è l'esigenza di ogni piazza L'ultima, il presidente ci ha detto in un'intervista che per Borrelli ci sono delle richieste importanti quindi difficilmente lo riallenerà quest'anno mi dica solo sì o no, le piacerebbe riavere Dursi a Pescara Torni Dursi? è un giocatore che ha delle qualità importanti come ce ne sono altre io mi riservo poi di prendere delle decisioni sempre di comune accordo o meglio, io so che le scelte tecniche per esempio spettano mai ma è giusto che io le condivida con la parte dirigenziale poi io ho un compito e quindi anche qui se la società pensa che Dursi sia un giocatore utile io lo valuterò così come quelli che sono già sotto contratto attualmente non ho preclusioni verso nessuno perché credo che ognuno si debba fare la propria idea perché se parto con dei preconcetti o dei pregiudizi verso qualcuno probabilmente inizierei nel modo sbagliato a tutti e siccome tutti la pensiamo in modo diverso credo che ogni giocatore vada valutato per quello che è la visione di ogni allenatore Chiaramente nomi in conferenza avete fatto capire che non li direte neanche sotto tortura quindi io cerco di aggirare un po' il discorso partendo anzitutto da un nome che ha fatto il Presidente sul quotidiano Il Centro in una nostra intervista ha detto che piacerebbe molto portare sia Spalluto che Nicolussi Caviglia quanto sono difficili? sono difficili per un discorso di ambizioni naturalmente dei giocatori ambiscono ad andare in una categoria superiore Nicolussi Caviglia tra l'altro si è ripreso nelle ultime dieci partite di campionato dell'Under 23 perché veniva da un infortunio ritornato a essere il Nicolussi Caviglia che io conoscevo già ai tempi della Juventus primavera Spalluto oggi si pensa che in una Serie B che oggi è diventata una 2 possa andare a giocare non è secondo me in questo momento un giocatore sul quale una società di Serie B possa puntare e farlo giocare tutte le partite Pescara garantirebbe naturalmente tutte le partite perché il giocatore è un giocatore importante nello stesso tempo sono due giocatori che comunque ci interessano questo indubbiamente Dovesse partire Sorrentino, Iacobucci è il primo della lista? No, dovesse partire Sorrentino allora partiamo dal presupposto a me piace il giovane grande, questo è indiscutibile di avere il giovane in porta col grande che gli dia consigli e sia quello l'asse portante anche di uno spogliatoio Iacobucci è un nome valutato, questo indubbiamente Iacobucci ha il contratto fino al 30 giugno tra l'altro col Pescara ancora in settimana valutiamo anche questo Dursi, possibilità di un ritorno magari a fine mercato? Forse a fine mercato, la volontà del calciatore sarà determinante vediamo quello che succede Un nome che le piacerebbe portare a Pescara? Ce ne sono tanti, un nome in particolare non ce l'ho perché ce ne sono tanti che ne vorrei portare a Pescara L'immobile del 2012 chi è? No, l'immobile del 2012 non esiste, esiste immobile di quell'anno lì che è bastato e ci è avanzato Le monache e l'insigne del 2012? Le monache per me è qualcosa di più di insignia del 2012